Sono un consigliere comunale di Taranto che gira, non amo così godermi l'elezione ottenuta stando in poltrona. I cittadini mi hanno segnalato una situazione incredibile, siamo nel pieno centro, via Leonida, angolo via Mazzini, si stanno eseguendo i lavori di rifacimento del manto stradale in via Mazzini, via Mazzini è interdetta al traffico e vedete cosa si crea qui lungo via Leonida, le auto sono praticamente imbottigliate nel traffico, una situazione davvero incredibile. Ora per carità le strade è giusto che vengano rifatte, ci mancherebbe altro, devono essere rifatte, ma caro commissario tu che hai disposto i lavori e caro Melucci, sindaco Melucci che ora sei sindaco, sei ritornato nel tuo ruolo di primo cittadino, non avete avuto l'idea che questi lavori si potevano fare o di notte o comunque in orari più morti nelle prime ore del pomeriggio, non certo nelle ore di punta in cui ovviamente si creano gli ingorghi e ovviamente il traffico va in tilt. Questo succede quando ci sono amministratori e dirigenti che evidentemente non hanno una certa apertura mentale e non hanno la capacità di interpretare soprattutto queste situazioni. Da consigliere comunale alzerò la voce perché non è possibile che Taranto davvero scoppi di traffico e non è possibile che gli automobilisti debbano impazzire. Grazie a tutti